Lavoratori! Ci dobbiamo sposare, hai visto Fausto? Tranquillo, si è sistemato, è beato. Fausto non è un mascalzone, è un istintivo fazionale, mi fai accendere a sfondo animalesco. Ma che dici? Ma che stai dicendo? Questo si crede sempre di scrivere con me. Ma è un furto. Senti Moraldo, io ho famiglia adesso, questi soldi mi servono. Cosa c'è? Non si trova più Sandrina. Sud che sta usato Cydia. Ah, una cassa c Anna provoca il cal behöver. Cosa è un cammino nascono children? Che siamo palace cqua! CHE CHEE BUNSICA refersupposta in..! Ha noi...